Salve, era da una vita che non facevamo un Q&A perverso Perché risponderemo alle vostre domande anonime E quindi sì, sono pronta al peggio Ma manca qualcuno, Eric Oh, eccolo qua Perché vi costringi sempre a partecipare a queste cose? Ma che te ridi? Ma che te ridi? La prima domanda è già in fame Mostra all'altro la faccia dello streamer o youtuber che odi e non sopporti Quale dei tanti scusati? No, si scherza, si scherza Ci sei? Ci sono 3, 2, 1 Eh beh, a me il suo non sta antipatico Però sei d'accordo con il mio Oh, quando parla che ci abbiamo avuto a che fare Ma siete messi a disagio Oh, non lo sopporto in modo chiaro di fare Soprattutto chi fa una squadra che non siamo d'accordo No, 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 proprio non va bene Non va bene Il tuo, sai cosa? Non lo considero neanche più della nostra specie È cattiva, è cattiva ragazzi, è cattiva Non so se abbiamo dato abbastanza indizi In ogni caso, provate qua sotto a indovinare Quali sono i due creator Bravo, tu che hai fatto questa squadra Dai, li faccio adesso per un istante No, 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 ma perché? Andiamo avanti Andiamo avanti La indovina con una Sai lottare o menare Risposta B Sai lottare o menare E di che colore hai il reggiseno oggi? Non ho il reggiseno Tu sì, lo sappiamo Grazie Però solo oggi non ce l'ho Posso rispondere io? Vai Avete visto se ci seguite sul nostro canale Twitch Delanio in Yt Mettete il follow se ancora non l'avete fatto Che spesso io non ci sono in live E non è perché sono pigro E cioè perché lei mi mena E non posso avermi detto un picchiato in live Ma non è vero Lei mena come un fabbro Ma pensavo che invece rispondere la domanda sul colore del reggiseno Visto che stamattina me l'hai levata E sai di che colore era Te l'hanno preservita sul pietro d'argento Comunque adesso lo porto Neanch'io Pre popis Non trovo questo hashtag Secondo me lo appoggerebbero intanto No, meglio guarda Andiamo avanti Prima di proseguire con le domande Abbiamo una novità per voi Ed è il Challenge Mass Questo è il nostro calendario dell'avvento E dal primo di dicembre partiremo con Un giorno sì, un giorno no E andremo a pescare tutte le sfide E le challenge che ci sono qua dentro E le vedrete sul nostro canale Sarà veramente un dicembre esplosivo Ma se fallisci cosa succede? Lo scopriamo Dai però Per chi è qui Fai uno spoiler Apri una busta a caso Ok Quella lì rossa Questa Fate un 1VS1 Chi perde e mangia cibo per astronauti Capite? Lo sentite nel Natale dell'aria? Oh 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 Ti distrucco Non è questo lo spirito del Natale? No Insomma Molti più video La qualità sarà sempre più alta Quello che dovete fare voi È essere sempre sul nostro canale E supportarci sotto nei commenti Su questo nuovo format C'è anche un bel like che non fa mai male E stai pronti perché inizia già domani alle 14 So che ancora non ci conosciamo Ma vorrei chiederti se mi accompagni al matrimonio di mio cugino Per rispondere vi devo portare all'era Cioè in camera Andiamo Oddio aver letto un sfatto Siamo qui all'armadio di Sandless Perché lui è allergico ai matrimoni Cerimonie e cose formali Giusto tre giorni fa sono riuscita Dopo 120 anni A convincerlo a prendersi la sua prima giacca elegante Perché lui a un matrimonio si vestirebbe così Allora Sia il suo Ovviamente maglia dell'Inter Ma neanche a dirlo Scontato Mentre sia il matrimonio di un amico Lui ci andrebbe con qualcosa di elegante Tipo il maglione di Darth Vader Perché comunque singolare Detta sua Cioè capite con chi sto Quindi sì possiamo farlo Per favore Uno al mese mi invita a un matrimonio Che io amo Sono l'anima delle feste Soltanto un requisito Dovete essere più alti di me Io sono 1,70m E mi piace anche mettermi i tacchi Quindi se siete più bassi Vi mettete anche voi i tacchi Non mi importa niente Ci state? Cioè se li mette Tom Cruise i tacchi Perché non ve li potete mettere voi Se proprio vuole fare quello elegante Sapete cosa si mette? Dove sono le polo? Ecco E guai qua giù dimenticate in un angolo Si metterebbe Una polo Tipo azzurrina Così di un bel colore Il massimo dell'eleganza Per Eric Cioè Se volete che c'è posta per lì O questo Q&A tra di noi Con TV Mi raccomandate qua sotto Nei commenti E come dice Orazio Scrivete domande e curiosità E noi vi risponderemo Io e Orazio Va bene? Ciao Scrivete! Che sta... Io vedo che è stata a ridere Dovete ridere per come so concia Dovete scrivere Capito? Ecco Next Vediamo se Eric sa quanto sono 5 centimetri Lo deve dimostrare Andiamo Innanzitutto ci serve il metro Eccolo qua Andiamo a infastidirlo Dove sta? E' qui Ma che fai con la mia coperta? Si scusa? Allora devi dimostrare di sapere Quanto sono 5 centimetri Ma è una difficoltà Non sono misure Che sono abituato a trattare Per me Sono 5 centimetri Quasi 6 Guarda un po' Eh si E' utile che non abbassi eh Cacchio Uno in più Dai dai Gigi Non male Se me ne davate da metterla a 20 Era più semplice Ma Aspetta che ritiro Ritiro questa Sbruffone E non ti copride con il libro Che costa un patrimonio Questo è un genio del male Lo posso dire? Avete mai provato a utilizzare La torcia ultravioletti In camera vostra? No 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 Perché uno dovrebbe mai fare una cosa del genere Mai fatto Mai Ma è da persone troppo strane Ma che idee ti vengono in mente? Vediamo Qui c'è qualcosa Qui No 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 sono due mani Sono due mani Due mani No 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 Fai vedere Fai vedere bene No non si vede niente Non si vede Fai vedere Fai vedere Levati da qui Non si può Ma E' qui E' qui E' colpa tua E' qui Qui si vede Qui si vede Lo vedete Dai Basta 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 Guarda le mani Guarda le mani Guarda le mani No E' un lenzuolo Che è fatto così E' speciale E' un lenzuolo fluo E' tutto camuflage Basta Fa la finita Le basta cosa Mi raccomando Non fatelo a casa Non fatelo a casa Che qua Finite per lavare tutto 500 volte Non fatelo La prima domanda normale Ah Musica preferita Allora Non vi dico Cioè la sua E' musica di merda Ooooooooh Ma che cattici Vi ascolta il rap italiano Di quando praticamente Manco Arunata Ma che cacchio vuoi? Anzi scrivete una cosa Un saluta chiave Mistaman Aist Il pagliaciume Che va in giro oggi Che stanno col perizoma Oh La mia tizia Salta su un c***o Come fosse un canguro Ma che cazzo Ma se Ci avrai anche il micro Dei cinque centimetri Di primo Ma cosa vuoi? Scrivete voi qua sotto Nei commenti Il vostro artista Cantante preferito Il numero uno Io comunque ascolto Musica pop commerciale Niente di italiano Mi dispiace La roba che davano A Las Vegas Prima della Formula 1 Lasciate un commento qua sotto Una prossima domanda Che volete nel prossimo video Ma mi hai fatto una rima E poi mi dici a me Quella è la tua musica Non la mia Scrivete domande e curiosità E noi vi rispondiamo E noi ci vediamo domani con il nostro Challenge Pass Sì perché domani Apriremo la prima casella E proveremo ad affrontare La prima sfida Quale apriamo? Questa Sono spaga Ciao Sono spaga